La popolazione migrante è storicamente presente all'interno dei nostri servizi consultoriali di tutta l'azienda Ex8, rappresentando una percentuale notevole, il 2016 ha visto un 16% dei nostri utenti di nazionalità non italiana, primo semestre 2017 il 25%, per cui assolutamente in crescita, vuol dire anche che il servizio è conosciuto, è un luogo di accoglienza, di ascolto. In maniera storica lavoriamo con i migranti e abbiamo una serie di progettualità venute di conseguenza, perché per esempio la maggior richiesta che le donne rivolgono riguarda la tematica del percorso nascita, quindi la gravidanza, anche perché la Regione Toscana individua nei consultori il luogo e unico luogo per il tiro dei libretti di gravidanza, che a noi, ma non solo a noi, anche a tutte le nostre utenti, dà l'opportunità, oltre che a consigliare il libretto, ma anche a descrivere il nostro percorso assistenziale, che prevede la partenza in ospedale, ma che ovviamente è collegato con i nostri ospedali, come punti nascita, e ritorno nel territorio per il periodo successivo al parto. Da qui nasce Nator, ormai da tanti anni, soprattutto nelle due zone distrette più grandi della nostra azienda, Exotto, quindi la zona retina e la zona del Valdarno, l'istituzione in maniera statica dei corsi di accompagnamento alla nascita in lingua. La nostra fortuna è che in queste due zone abbiamo una etnia prevalente, questo ci facilita un po' in confronto ad altre zone della sud-est, dove è più frammentaria la presenza delle diverse etnie. Questo permette di rendere l'offerta, di chiarire qual è l'offerta assistenziale del nostro percorso e di lavorare soprattutto in un'ottica di prevenzione e promozione della salute. Noi sappiamo che le donne migranti sono donne giovani, sane, quindi in età fertile, per questo abbiamo un alto numero di donne in gravidanza, che rappresentano fra l'altro un terzo dei nostri parti nei nostri punti nascita. La figura del mediatore linguistico-culturale, figura indispensabile non solo per la possibilità di poter tradurre quello che io sto dicendo e ascoltare quello che mi viene detto, che è l'esigenza prioritaria, principale, ma la grossa parte sul lavoro e sull'interscambio culturale. Questo permette di definire quali sono i percorsi, come si utilizzano le strutture sanitarie. Mi deve pensare al contrasto per esempio all'utilizzo improprio del pronto soccorso come ambulatorio, non è quello, ma ovviamente risulta indispensabile. Non solo, ma proprio in termini di salute. La nazionalità prevalente sul nostro territorio è la rumena seguita dalla nazionalità albanese. Con questi utenti non riusciamo senza difficoltà a comprenderci. Quindi la prima nazionalità non più presente, ma con la quale abbiamo difficoltà linguistica è sul territorio aretino la nazionalità bengalese, con le quali comunichiamo invece con il mediatore linguistico-culturale. La nazionalità bengalese sulla zona distretto di Arezzo, quindi sul consultorio di Arezzo, è l'indiana per la zona di Seto, per esempio Val d'Arno. Questo ha fatto sì che si concentrassero nei consultori di queste due zone corsi in lingua, per queste nazionalità. Bengalese su Arezzo, indiano su Val d'Arno. La popolazione asiatica presente sul nostro territorio, che è sì giovane e sana, però presenta per esempio in gravidanza un'alta percentuale di diabete in gravidanza. Il poter lavorare in un'ottica sempre di tutela della salute, ma anche di prevenzione e promozione della salute, fa sì che vengono date indicazioni alimentari corrette, soprattutto in una popolazione che magari non trova qui gli stessi alimenti o difficilmente li sostituisce, per cui è necessario integrare e fare un lavoro specifico, contestualizzare a quella donna, perché se è vero che siamo tutte uguali, è vero anche che siamo tutte diverse. La conoscenza che ha permesso di ottenere la presenza dei mediatori e linguisti culturali nell'equipe consultoriale, ovviamente in maniera programmata, ha fatto sì di formare anche gli operatori e riuscire appunto a contestualizzare l'intervento per non vanificare comunque lo sforzo fatto nel comunicare cose però che non potrebbero arrivare se non contestualizzate. Questo è stato determinante. Per quanto riguarda le progettualità che abbiamo fatto per esempio nel passato, sempre a riguardo della gravidanza ma in questo caso dell'interruzione volontaria della gravidanza a contrasto con l'idea di ridurre il numero, lavorando in un'ottica di tutela della salute, è stata fatta su un'etnia e su una nazionalità specifica dell'est Europa che aveva questa caratteristica, era inizialmente una nostra sensazione confermata dalle statistiche con l'utilizzo di per esempio i VG ripetute. Attraverso la mediazione linguistica culturale abbiamo fatto un lavoro, abbiamo ottimizzato una progettualità che prevedeva un lavoro da fare assieme alle donne di quella comunità agli operatori consultoriali per cercare di capire come intervenire perché probabilmente l'approccio che noi avevamo con una donna di nazionalità italiana pur essendo fatta in maniera molto professionale non otteneva gli stessi risultati su una donna di un'altra nazionalità specifica dell'est Europa. Questo nel tempo perché poi le cose culturalmente occorre nel tempo per modificarle ha portato a un decremento significativo di questa percentuale quindi lavorando sulla contraccezione e quindi sulla prevenzione. Abbiamo fatto un lavoro che passa dagli operatori dell'accoglienza per l'appunto in integrazione sia con le donne che con gli operatori del consultorio. Abbiamo fatto degli incontri che erano assolutamente di conoscenza. Ovviamente ogni gruppo di accoglienza, ogni associazione rivolgendosi al consultorio della propria zona di stretto, questo per facilitare perché l'obiettivo è quello di rendere queste donne autonome, quindi il luogo più vicino per loro, quindi spiegando chi siamo, dove ci possono trovare, quando ci possono trovare e per quali tematiche ci possono trovare. Legittimando il fatto anche che il servizio consultoriale risponde a tutta una tipologia di prestazioni di servizi, ma può essere anche il luogo di orientamento per altri. Mi viene a pensare il codice rosa, anziché tutto quello che può riguardare i problemi di dipendenza di quella persona o di persone a lei vicine. Ovviamente noi siamo tutti i servizi territoriali e ospedali in rete, per cui l'importante è che la donna, l'uomo o la coppia si rivolga al servizio e dopo una prima accoglienza noi indirizziamo in quel luogo, nel consultorio facendo spostare l'operatore specifico del servizio richiesto e poi con la presa in carico del servizio più legittimato a svolgere quella funzione. Statisticamente pare che le donne in questo momento siano in numero inferiore degli uomini. Abbiamo notato che nel tempo più le donne di alte nazionalità, mi riferisco in questo caso per esempio le donne bengalesi, non lavoravamo quasi per niente sulla contraccezione, era difficile poter, ne parlavamo, ma ottenendo poco ascolto, poca condivisione della problematica. Nel tempo abbiamo visto che questa cosa si è modificata, per cui sono le donne che nemmeno probabilmente dieci anni fa facevamo un colloquio per individuare un metodo contraccettivo che potesse andare bene, non sortiva risultati, adesso sono le donne che chiedono un appuntamento per contraccezione. Quindi nel lasso di meno di dieci anni siete riusciti a creare una rete che abbattesse un po'. Un cambiamento culturale, questo ripeto grazie all'integrazione nelle echipe consultoriali dei mediatori linguistico-culturali, sono figure fondamentale non solo per la traduzione linguistica, ma è ovviamente facilmente pensabile perché arrivare in un posto è trovare un connazionale che capisce quello che io dico e che mi conduce nei percorsi, è una figura molto fiduciaria la mediazione, per cui deve essere anche una persona riconosciuta dalla comunità, accreditata. Deve esserci un rapporto di fiducia? Assolutamente, un rapporto fiduciario significativo, altrimenti è solo una traduzione linguistica. L'utilizzo del consultorio corrisponde alla presenza sul territorio, per cui ovviamente Romania, Albania, si parla spesso della Bengalesia perché è la prima nazionalità presente con cui abbiamo un problema linguistico che nel tempo si è modificato, nel senso che le donne sono arrivate sul territorio dieci anni fa, adesso non hanno più bisogno del mediatore linguistico, sono più autonome. Quindi c'è chi arriva proprio da voi sapendo già quello che chiedervi, quello che cercare. Certo, nello specifico ora mi viene da pensare al percorso nascita, al fatto di aver istituzionalizzato dei percorsi specifici per donne del Bangladesh in Arezzo del Valdarno per le donne indiane, ha fatto sì di far conoscere non solo i servizi ma di comparare la possibilità di scelta delle donne. Allora, percorso nascita, del percorso nascita c'è un incontro, degli incontri previsti con un anestesista che descrive, faccio un esempio, la possibilità delle donne di poter scegliere in maniera libera, come ha istituito la regione toscana, se fare un travaglio di parto o la parto analgesia. Se le donne non fanno un incontro all'anestesista che descrive minuziosamente qual è la pratica, quali sono gli effetti collaterali e spiega la motivazione, quella donna non potrà scegliere un travaglio di parto se farlo o no, perché non ha avuto accesso alla parte conoscitiva. Gli anestesisti non le faranno mai una parte analgesia. Noi sappiamo benissimo il fatto di aver istituito dei corsi di accompagnamento alla nascita e di aver integrato la figura dell'anestesista, mette alla pari una donna bengalese ad una donna italiana di fare le sue scelte. Quindi la consapevolezza. La promozione della salute. Un'altra cosa, si parlava prima dei corsi di accompagnamento alla nascita, però un altro luogo che era disabitato alle donne straniere era lo spazio mamma per la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno, che era abitato solo da donne italiane. È cambiata molto questa situazione, riferito soprattutto anche alle donne asiatiche. e questo vuol dire tanto in termini di promozione della salute, non solo per sostenere l'allattamento al seno, ma tutto quello che significa anche il contatto, quindi va a sfociare nella genitorialità, in una genitorialità responsabile. E questo è non solo riferito a quella donna, ma a quella donna e a quei bambini che nasceranno da quella coppia. Ci sono già le seconde generazioni che noi incontriamo a questo punto però negli spazi dedicati ai più giovani. La situazione è tutt'altra, non abbiamo bisogno di mediazione linguistico-culturale e ci fa ovviamente assolutamente piacere il fatto che trasversalmente questi servizi vengono utilizzati e che li abbiamo, li abbiamo presenti negli spazi, nello specifico nello spazio giovedì, uno spazio dedicato in tutti i consultori alla fascia giovanile dai 14 ai 24 anni, uno spazio aperto che in Arezzo è il martedì pomeriggio, che vede tutta l'equipe consultoriale raccolta e anzi abbiamo in quell'occasione sospeso tutte le attività consultoriali per favorire l'incontro dei ragazzi ed evitare l'incontro con gli adulti, è assolutamente internazionale.